Una sola offerta per la gestione di Palazzo Beltrani, sede della Pinacoteca Ivo Scaringi. E' quella di Made in Puglia, la società che ha gestito il Palazzo delle Arti fin dalla sua apertura al pubblico, con l'eccezione degli ultimi quattro mesi dell'anno scorso. La gara era stata pubblicata a fine gennaio con procedura telematica aperta sulla piattaforma in Puglia e prevede l'affidamento in gestione dei servizi di Palazzo Beltrani per i prossimi cinque anni, con offerta iniziale di 195.000 euro. In dettaglio, il gestore dovrà provvedere, come previsto dal bando, all'apertura e chiusura dei locali e degli spazi museali, alla pulizia degli ambienti, alla custodia, alla sorveglianza e al controllo degli accessi ai servizi di biglietteria, alla prenotazione e prevendita, ai servizi di reception e informazioni al pubblico, alla realizzazione e il noleggio di audioguide e whisper, alla gestione di un bookshop e di una caffetteria, alle attività didattiche, di visite guidate, alla programmazione di manifestazioni e iniziative. Esaminata solo la parte documentale che ha consentito alla società di essere ammessa.